Sono fuggito e sono venuto qui perché voglio una abbatura. Ditemi, Bucanato di Paviera, come mai non vedo qui mio padre e neanche mio zio Cardomagno? Buon mattino, tuo zio Carlo andò a cercare tuo padre di nome, perché ancora non è rientrato nel vostro accampamento. Il mio padre Milone non è rientrato ancora qui nell'accampamento di Paviera. Io andrò in cerca di mio zio Cardomagno, ma poi saranno per tutti voi se qualche cosa è accaduta al mio padre Milone.